Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Anche il video di oggi sarà particolarmente breve, ma spero possa tornare utile a molti di voi. Su FIFA è stata aggiunta una nuova sfida Creazione Rosa nella categoria avanzate. Questo gruppo di sfide, che è relativo al giorno di San Patrizio, contiene quattro sfide Creazioni Rosa, due delle quali richiedono giocatori di specifici club nazionali. La prima richiede giocatori dello Shamrock Rovers, che è una squadra del campionato irlandese, mentre la seconda richiede 11 giocatori irlandesi, di cui almeno 5 argento e almeno 5 rari. Io vi invito a controllare il vostro club e a mettere in vendita tutti i giocatori di questi club, perché in questo momento hanno dei valori veramente, veramente alti. Vi invito a mettere in vendita tutti i giocatori irlandesi rari, tutti i giocatori nord-irlandesi rari e tutti i giocatori dello Shamrock Rovers, che venderete davvero a tantissimi crediti. Io nel club ne avevo diversi, li ho messi tutti in vendita e sto aspettando di venderli tutti. Vi consiglio di controllare e di metterli in vendita perché hanno davvero un buon valore. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Iperbole e al prossimo video.